Decima e ultima corsa di questo lungo pomeriggio del derby è proprio la consolazione del derby italiano del trotto. Sono in dodici al via, rapidamente il campo, uno dei Baru Conway, Usual Cronos, Universale, Up, Right, B, Ubi, Maio, SM, Uragano, Toro in prima fila, Urali, SM, Uragano, Star, Ultra, Wind, B, Urso, Scaffe, Ufo, Robo, HP in seconda fila. C'è stato l'errore prima del lancio di Urali, SM. Cerca di emergere nettamente Up, Right, B, che ha colto ottima partenza e va a condurre in poche battute nei confronti di uno dei Bar, poi l'errore però di uno dei Bar che lascia in seconda posizione, Universale. Quindi Usual Cronos a precedere Ubi, Maio, SM. Poi ancora all'esterno Uragano, Toro con all'interno Uconway, sullo slancio prende vantaggio Up, Right, B, sta imponendo andatura molto sostenuta, questi ultimi 500 metri dal palo fino a qua sono in 36 e 8 per Up, Right, B, che ora cerca di moderare il ritmo nei confronti di Universale, Usual Cronos, Ubi, Maio, SM che sposta a largo in anticipo su Uragano, Toro, poi ancora il 2 di Uconway. A largo c'è anche Ursus Caff con all'interno Uragano Star, chiudono il gruppo Ultra Wind B e poi ancora Ufo Robo HP. Posizioni si mantengono sostanzialmente immutate, ma ora c'è il volo in terza ruota di Ultra Wind B, prova ad opporsi Ubi, Maio, SM, ma soltanto per prendere la scia del cavallo interpretato oggi di Enrico Bellei, mentre Up, Right, B, continua a fare andatura nei confronti di Universale. Poi Usual Cronos all'esterno Ultra Wind B, poi ancora Uragano Toro, sempre in vantaggio, Up, Right, B, che continua a imporre andatura molto sostenuta nei confronti di Ultra Wind B, che affianca a Universale. Poi Ubi, Maio, SM, Up, Right, B, in vantaggio nei confronti di Ultra Wind B, poi Universale, che viene raggiunto da Ubi, Maio, SM, ha mosso anche Ursus Caff. Siamo ormai all'attacco dell'ultima curva con Ultra Wind B, che ha guadagnato la scia di Up, Right, B, ma ora deve spostare per prevenire la mossa di Ubi, Maio, SM, che però sbaglia, mentre Universale è raggiunto da Ursus Caff e in terza ruota anche da Uragano Star, la retta d'arrivo, vede Up, Right, B, in vantaggio su Ultra Wind B, che si è ricaricato nella sua scia, prova a spostare, ma Ursus Caff e soprattutto Uragano Star e Ufo Robo HP sembrano più incisivi, vanno in caccia di Up, Right, B, Uragano Star a centropista, imitato a largo da Ufo Robo HP, che vanno su Up, Right, B, nel finale Ufo Robo HP a largo di tutti, che sta passando di slancio, Ufo Robo HP, vince su Uragano Star per il terzo, Ultra Wind, appariglia completamente Up, Right, B. 2.38 sul mio cronometro per gli ultimi 2.000 metri di gara e quindi ipotizziamo media intorno all'1.15 per il vincitore di questa consolazione del derby, era in ultima posizione Enrico Maisto con Ufo Robo HP, ma c'è stato i parziali ancora una volta al contrario in questa giornata e chi è stato alla finestra a guardare alla fine è riuscito ad emergere davvero pungente lo spunto a centropista del figlio di Varenne, che passa di slancio, vince Ufo Robo HP su Uragano Star per il terzo, foto stretta tra Up, Right, B, alla corda, Ultra Wind, B, all'esterno. I due sono perfettamente apparigliati, c'è anche il casco di Gaetano Di Nardo, interprete di Uragano Star, a complicare la situazione per capire chi sia giunto terzo sul palo, non ci sono dubbi per quanto riguarda la vittoria di Ufo Robo HP.